4 trucchi per mantenersi in forma anche se si ha poco tempo. Vi piace mantenervi in forma, seguire uno stile di vita sano, fare attività fisica e tonificare i muscoli. Tuttavia, non avete abbastanza tempo a disposizione per farlo. Il movimentato ritmo di vita attuale, le lunghe ed estenuanti giornate di lavoro e le attività domestiche vi privano del tempo e delle forze necessarie per fare attività fisica. Sappiamo che è complicato trovare il tempo per mantenersi in forma ed esercitarsi. Per questo, vi proponiamo 4 semplici trucchi che vi aiuteranno a raggiungere il vostro obiettivo. 1. Pensate ai benefici per il corpo e la salute. La prima cosa da fare è essere consapevoli della necessità di svolgere attività fisica, anche se si ha poco tempo. Siete leggermente ingrassati e i pantaloni vi stringono? Avete un problema alle articolazioni e ai muscoli? Forse avete bisogno di fare attività fisica per sentirvi meglio? Vi aiuteremo. Serve solo forza di volontà e un po' di sforzo. Svolgere esercizio fisico vi aiuterà a risolvere questi problemi e, inoltre, sarà molto positivo per la vostra salute e autostima. Cosa aspettate ad indossare le scarpe da ginnastica e ad iniziare? 2. Andate in bicicletta. Andare in bicicletta è uno degli esercizi che possono aiutarvi di più a tonificare il corpo. Otterrete quadricipiti, glutei e polpacci perfetti, oltre a perdere peso senza rendervene conto. Potrete andare in bici vicino a casa vostra, nel tempo libero. Potete andare al lavoro, a prendere i vostri figli a scuola o fare la spesa in bicicletta. È un modo sano, attivo e divertente per muovervi e mantenervi in forma senza smettere di fare altre cose. 3. Scaricate un'applicazione. La mancanza di tempo, o di voglia, per andare in palestra non è una buona scusa per non praticare attività fisica. Ci sono moltissime applicazioni che vi permetteranno di muovervi e di tonificare i muscoli direttamente a casa vostra. Ne esistono di fitness, yoga, pilates, programmi di soli 7 minuti. Sono tutte munite di istruzioni dettagliate sugli esercizi da realizzare e non c'è bisogno di nessun attrezzo per farli. Potrete scegliere la zona del corpo che volete far lavorare e con quale intensità, tramite l'applicazione. Inoltre, potrete controllare i vostri progressi. 4. La febbre delle running si è trasformata in un'attività alla moda, non c'è dubbio, e non a caso dato che apporta numerosi benefici alla salute, rafforza il sistema cardiovascolare e libera endorfine che vi saranno sentire meglio. Si tratta di un esercizio divertente da svolgere all'aria aperta. L'aspetto migliore è che non avete bisogno di molto tempo, qualche minuto due o tre volte alla settimana saranno sufficienti a mantenervi in forma.